buongiorno anzi buonasera ormai a tutti questa sera uso un setup leggermente diverso dal solito perché come al solito come dirmi mi piace fare un po di esperimenti di cosa vi volevo parlare però è fondamentale vi volevo fare alcune riflessioni purtroppo serena questa sera non siamo riusciti a incastrare gli orari alcune riflessioni su quello che sta succedendo nell'azienda in particolare di bologna ma è un problema che credo si scali su base regionale relativamente alle al reclutamento del personale perché sappiamo che come è successo l'anno scorso dove nell'azienda usl di bologna i cao aperti erano solo quattro per le festività maggiori natale capodanno eccetera eccetera chi ha coperto i cao al 75 per cento non medici cao sono stati coperti da medici dell'emergenza territoriale in grossa parte e quindi personale che viene da un altro tipo di servizio perché perché non si trovavano ovviamente grazie a quel verbale di intesa come dire estremamente carente per non dire fatto coi piedi da un punto di vista contrattuale perché non è neanche un contratto un verbale di intesa quindi non è un accordo vero e proprio insomma è una come dire un'espressione di intenti dichiarazioni di intenti insomma comunque quello che succede è che per le festività e quest'anno le festività colpiscono ovviamente territori dove i caos sono cresciuti in numero per le festività non si trova il personale e quindi le aziende cercano in qualche modo di barcamenarsi per riuscire a porre rimedio a questo caos perché perché se no qual è l'alternativa e poi alla fine chi dovrà andare a coprire saranno i dipendenti magari delle cure primarie i cosiddetti medici di direzione di organizzazione e quindi dovranno andare loro come succede peraltro già quando ci sono delle essenze improvvise a coprire quindi che cosa accade che l'azienda di Bologna ha non trovando una quadra con le organizzazioni sindacali ha tentato una delibera unilaterale una delibera unilaterale che non solo però non è che si limita a dare 12 euro l'ora in più per le giornate super festive Natale Capodanno e via discorrendo ma mette anche tutta una serie di altre regole ma in realtà in queste regole sono nascosti posizioni di coordinamento funzioni contrattuali compiti pagamenti eccetera eccetera che invece sono vera e propria materia di accordo contrattuale ora non è che se non trovi un accordo con le rappresentanze dei professionisti vai avanti da solo ovviamente motivo per il quale snami ieri ha proceduto a diffida perché ovviamente se non si trova un accordo evidentemente tra l'altro questo personale non è dipendente giustamente delle dell'azienda senza se non si trova un accordo un motivo ci sarà e i motivi voi sapete che noi li abbiamo declinati da più di un anno a questa parte però vabbè io non volevo focalizzarmi solo su questo su cui parleremo comunque abbondantemente nei prossimi nei prossimi giorni volevo invece farvi notare quello che accade e il famoso fenomeno del mano destra non sa cosa fa la sinistra sempre nell'azienda di Bologna per prendere questa come esempio ma anche se una delle migliori d'Italia questo è il livello delle migliori d'Italia perché noi diciamo che abbiamo problemi a coprire il pronto soccorso c'è un continuo devastamento di zibibbi per cercare il personale giustamente e vi faccio vedere vi faccio vedere oggi prendendo solo dati ufficiali solo documenti ufficiali vi faccio vedere perché probabilmente poi non troviamo il personale e ovviamente magari al cao pensiamo di aumentare giustamente anche comprensibilmente per i super festivi quindi la quota da già 42 euro più in pam riflesso a carico azienda che viene preso ordinariamente a cui si aggiungono poi le visite dei residenti fuori regione diciamo quindi non è 42 42 più x y aggiungiamo anche 12 euro quindi 54 più le visite fuori regione ok questa è la tarifa ovviamente essendo in un ambito convenzionale voi capite che ci sono già delle tutele la copertura malattia la copertura infortunio e tutte quelle che sono le tutele empam connesse no alla posizione quindi iscrizione al fondo previdenziale medicina generale acquisizione di punteggio e via discorrendo chi più ne ha più ne metta questo nel cao ok ora andiamo a vedere però la vera emergenza urgenza ospedaliera andiamo a vedere quella invece che cosa si fa cosa fa la stessa azienda in difficoltà per trovare il personale di pronto soccorso perché poi piange no le lacrime il coccodrillo perché giustamente non riesce non riesce poi a trovare personale per pronto soccorso e medicina d'urgenza e uhlala uhlala vi condivido questa beltà nel senso che se riusciamo a inserirlo trick e track vediamo se funge eccolo qua eccolo qua questo è il bollettino ufficiale della regione emilia romagna adesso vedo se magari riesco a fumare leggermente ok bene vedete 27 novembre 2024 unità sanitaria locale di bologna bollettino ufficiale della regione scusate se io giro la testa dall'altra parte ma purtroppo è una questione di schermi di come sono inseriti avviso di procedura comparativa mediante valutazione di titoli per l'eventuale conferimento di incarichi individuali al regime di lavoro autonomo quindi incarichi libero professionali per le unità operative di pronto soccorso e medicina d'urgenza afferenti al dipartimento di emergenza interaziendale nell'ambito dell'usl di bologna orbene quali sono i requisiti di ammissione così cominciamo a fare diciamo la differenza coi cao cittadinanza italiana godimento dei diritti civili politici bibobu cittadinanza europea qua requisiti specifici laurea in medicina chirurgia e specializzazione nella disciplina medicina d'emergenza urgenza o disciplina equipollente o affine secondo i decreti ministeriali bibobu che sapete sono le solite 42 discipline equipollenti affini però sono tutte specializzazioni cioè i medici devono essere specialisti abilitazione esercita della professione iscrizione all'armo professionale non essere stato non aver riportato e via discorrendo bene qual è a questo punto la questione i rapporti di lavoro autonomo potranno essere stipulati prevedendo le seguenti condizioni scusate che intanto metto non disturbare al telefono e devono prevedere le seguenti condizioni durata degli incarichi otto mesi impegno dell'attività professionale commisurati alla complessità e continuità delle prestazioni dell'oggetto dovranno essere articolati in maniera flessibile compatibilmente con il servizio erogato nell'ambito della struttura interessata fino ad un massimo di 38 ore settimanali quindi l'equivalente di un tempo pieno indipendente cioè come quello della convenzione 38 ore cosa prevede e qua vi faccio ridere 85 euro orari lordi lordi comprensivi di qualsiasi onere ed iva se quando dovuti in caso di impegno massimo di 12 ore settimanali cioè se tu specialista lavori da me 12 ore io ti pago 85 euro ok questi euro comprendono non solo ovviamente la retribuzione ma anche i contributi che di norma salvo aliquote particolari sono al 24 per cento quindi da qui devi togliere il 24 per cento di pensione su quello che resta devi togliere l'irpev e quindi quello che ti rimane lo vediamo ma vabbè 85 dici vabbè se fai 12 ore se ne fai 13 ovviamente no oppure 60 euro lordi comprensivi di qualsiasi onere ed iva se quando dovuti in caso di impegno settimanale maggiore di 12 ore ora io personalmente ragazzi colleghi cioè non capisco cioè se lavoro di meno mi pagano di più se decido di dare più ore mi pagano di meno però vabbè se uno firma un contratto del genere evidentemente gli starà bene ammetto che fatico a comprendere bene andiamo avanti cosa succede anzi provo a metterla così no così mi metto come ora il compenso mensile però lordo sarà pari a 6840 euro omni comprensivi di eventuali oneri e sarà commisurata l'impegno orario preventivamente concordato col direttore della struttura il professionista partita iva la verifica dell'assolvimento dei compiti ora ora permettetemi cioè non vorrei mettermi a fare i calcoli no in tv come la meloni però se noi diciamo che l'importo massimo complessivo è questo qui di adesso qua forse non lo vedrete nello schermo però di 6840 euro allora facciamo questa cosa proviamo a parametrarlo alle 38 ore settimanali quindi facciamo il calcolo quello diciamo sbagliato non non è metodologicamente correttissimo però diciamo che se io ho 38 ore a settimana e le settimane nell'anno sono 52 posso più o meno farmi un'idea che faccio 38 per 52 giusto 38 ore settimanali 52 settimane in un anno sono 1976 ore ok diviso 12 questa è la media dei polli non è così che si calcola realmente l'orario di lavoro per un full time ma diciamo che possiamo approssimare in modo che possiamo comparare le cose sono 164,66 ore ok quindi 160 arrotondiamo per difetto arrotondiamo per difetto 164 ok ora se io prendo la tariffa che loro hanno messo quindi 6840 giusto diviso per 164 viene fuori viene fuori che se io lavorassi full time 38 ore settimanali e non capisco perché di cioè loro mettono due condizioni dicono 60 euro l'ora per gli incarichi sopra le 12 però il compenso massimo comunque sarà 6.800 cioè non è che vabbè è una cosa un po strana quello che scrivono in questo bando ora 6840 diviso 164 fa 41,707 attenzione quindi meno del cao che prende 42 euro ora più l'empam carico azienda qua è l'empam te lo devi pagare tu quindi da qua devi togliere il 24 per cento di empam la almeno lo aggiungi no e tu dici vabbè cioè ma di cosa stiamo parlando cioè faccio un contratto libero professionale per il pronto soccorso e la medicina d'urgenza richiedendo come titolo la specializzazione nella disciplina medicina d'emergenza urgenza o in una delle 41 42 equipollenti affini e se io vado a fare una parametrazione full time 38 ore con quel conto lì mi viene fuori che sono 41 virgola x euro ora lordi e a me sembra un po una follia perché a questo punto diciamo che l'empam è quasi il 10 per cento cioè se io vado a fare il conto della come dire capacità anche di guadagno che ha il medico cao è chiaramente superiore allora perché uno dovrebbe andare a lavorare in pronto soccorso perché uno dovrebbe prendere il contratto libero professionale in pronto soccorso se gli conviene il caos sotto tutti i profili perché non c'è solo quello economico c'è anche quello dei punteggi c'è anche quello delle graduatorie c'è anche quello delle tutele di maternità di insomma tutte quelle che sono le tutele connesse al fondo con della convenzione fondo è nella convenzione voi capite che questa cosa a me lascia assolutamente basito poi ovviamente adesso non voglio tediare troppo ma ci sono delle altre perle qua nel bando libro professionale dove si dice per esempio che se tu a un certo punto fai il concorso da dipendente devi essere subito disponibile a diventare dipendente sbattere i metti eccetera eccetera quindi cose che io rimango perplesso ora ora mi spiegate tutto questo come si concilia cioè se io ho un problema nell'emergenza urgenza vera nel pronto soccorso nei punti primo intervento per quale straccavolo di motivo vado a emettere dei bandi libero professionali di questo genere qua cioè è una cosa che io ritengo inconcepibile anche perché voglio dire sappiamo benissimo quanto costa un contratto di lavoro dipendente subordinato da dirigente medico di primo livello e via discorrendo ma se io faccio 6840 per facciamo che siano 12 mesi ma non sono 12 mesi perché poi se uno uno ce l'avrà un mese di ferie quindi 11 mesi sono 75.240 che però sono omnicomprensivi non c'è il tfr non c'è la tredicesima non c'è non ci sono la malattia cioè devi pagarti tutto tu quindi paradossalmente paghi questo contratto cioè l'azienda sanitaria spende meno con questo contratto sperando di prendere del personale in pronto soccorso non lo prenderà mai non lo prenderà mai l'unica cosa che potrà prendere giustamente questa logica è un gettonista che dice faccio 12 ore perché lì forse appena appena è più conveniente da un punto di vista di bilancio numero di ore ma questo non invoglia il personale a coprire di più magari invoglia tante persone a prendere poche ore che è magari un obiettivo legittimo ma è un obiettivo come dire auspicabile nel momento in cui poi lì ho una serie di chiaramente tutele in meno allora ma per quale motivo non si possono per esempio pubblicare le ore di specialistica ambulatoriale per medicina di emergenza urgenza che ovviamente anche quelle sono un po tirate però esistono e quindi si potrebbero utilizzare lì hai una convenzione lì hai tutte le caratteristiche che servono per coprire per quale motivo non si vogliono inserire forse perché mi viene da pensare viene meno anche lì il vincolo di subordinazione cioè ti troveresti con professionisti con un contratto strutturato che però non sbattono i tacchetti al funzionario e al direttore di turno e questo però è un cambiamento che ormai credo che sia molto sentito dalla popolazione medica e che serva ora io francamente cioè capisco siamo i meno i medici sono i meno pagati d'europa per molte delle persone che sentiranno questo video che non sono del settore e che non sono magari competenti di contratti crederanno che queste siano cifre folli in realtà tolta la previdenza tolte le tasse cioè un lavoratore dipendente vede di solito la sua busta paga non capisce tutto il che praticamente il doppio di quello che prende è poi il vero costo che ha l'azienda che lo ha assunto perché ci sono tutte le colti a ferre c'è gli accantonamenti ci sono le 13 cioè c'è tutta una serie di oneri riflessi che ovviamente il lavoratore medio che vede questo video non magari non conosce insomma per cui sembrano delle cose così buttate lì e come tanto soldo ma non lo sono assolutamente ora detto questo finisco il mio pippone perché sono già troppi minuti però mi pareva opportuno rendervi adotti di questa cosa e continueremo poi prossimamente anche con Serena a discuterne grazie e a presto